vendo in blocco alcuni modellini della fabbrica burago che oggi peraltro non è più in attività questa è una ferrari 348 dell'89 questa ferrari gto dell'84 rigorosamente made in italy e questi modelli abbiamo quella che la più favolosa di tutti la ferrari testa rossa del 1957 la più nota delle ferrari abbiamo però anche un'altra favolosa made in italy f40 dell'87 più abbiamo altri modelli in tipo la volkswagen 56 e via dicendo il blocco unico sono 37 modellini d'epoca il tutto per 300 chi conosce un po è del mestiere sa di cosa sto parlando stop 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 stop